buongiorno a tutti questo è un video tutorial per l'informatizzazione delle nomi in ruolo la prima fase per la scelta della provincia della classe di concorso e del tipo di posto faremo appunto una simulazione per vedere come si compila la scelta della classe di concorso da gae per la scuola per esempio primaria andiamo alla entriamo nelle istanze la e andiamo a vai alla compilazione proprio delle diciamo dell'istanza informatizzazione in ruolo espressione delle preferenze della provincia della classe di concorso del tipo di posto andiamo a vai alla compiletta alla compilazione facendo click si entra appunto in una pagina in cui c'è l'informatizzazione dei nomi nel ruolo e diciamo tutto ciò che conferisce alla privacy e alle avvertenze delle norme che regolano questa istanza dopo di che c'è anche l'informazione del titolare del trattamento dei dati dopo di che in fondo a questa pagina si può fare tranquillamente accedi facendo accedi si entra in un'area dove ci saranno i dati anagrafici del aspirante al ruolo o meglio prima di entrare nei dati anagrafici ci sarà la pagina riferita all'elenco dei turni aperti in tal caso il candidato ha come elenco di turno quello del canale delle gae regioni in questo caso calabria e la gradatoria il tipo di gradatore che in questo caso è a esaurimento facendo accedi appunto si entra nei dati anagrafici e quindi si procede in tal caso abbiamo una sola gradatoria che per cui se vogliamo partecipare a questa gradatoria come per l'immissione ruolo bisogna fare attenzione di non cliccare la rinuncia alla preferenza cioè mandare questa gradatoria nel cestino perché altrimenti comparirebbe una rinuncia sottostante c'è anche il titolo di riserva nel caso in cui il docente avesse nella domanda di inserimento nelle gae espresso il titolo di riserva in questo caso non c'è la domanda è una sola se ci fossero state più domande con utilizzando delle frecce si sarebbe potuto spostare per esempio l'insegnamento e e e come seconda ipotesi e per esempio la a a a come prima ipotesi dunque si sarebbe potuto dare pure un ordine all'elenco di preferenza per il ruolo una volta fatto questo ordine e dunque eventualmente aver rinunciato qualora si voglia però bisogna fare attenzione perché se si rinuncia al ruolo poi si viene esclusi per il futuro si può fare chiaramente l'inoltro e inoltrare la domanda facendo clic su inoltre in questo caso il sottoscritto deve dare un consenso della privacy dando il consenso della frase facendo conferma avrà inoltrato regolarmente la domanda